Ciao, mi chiamo Ilaria, tra due settimane compio 22 anni e abito a Meda, a una ventina di chilometri a nord-est di Milano, in Brianza. Prima dell'ITS alle superiore ho fatto relazioni internazionali per il marketing e l'anno scorso ho ottenuto il diploma ITS di tecnico superiore per il prodotto, il marketing e l'internazionalizzazione del settore legno arredo. Ho scelto un percorso ITS perché mi piace la dinamicità che ha questo tipo di percorso, gli ITS sono in continua evoluzione, in continuo dialogo con le aziende e con il mondo del lavoro. Per quanto riguarda le lezioni sicuramente ci sono stati degli esami che ho apprezzato più di altri, questa è una cosa estremamente soggettiva, ma i docenti mi hanno arricchito tantissimo sia dal punto di vista professionale, perché si tratta di professionisti, sia dal punto di vista personale, così come tutte le persone meravigliose che ho incontrato, che mi hanno fatto crescere, che mi hanno fatto maturare durante le due esperienze di tirocinio che ho fatto, una per ogni anno. Durante la seconda ho addirittura avuto l'opportunità di lavorare durante una fiera che si è tenuta a Parigi. Adesso sto lavorando nell'ufficio marketing di un'azienda che produce arredamento e allo stesso tempo ho deciso di continuare i miei studi con un percorso di laurea triennale in economia e governo di impresa, grazie a una convenzione che è stata stipulata tra l'ITS e la mia università, perché un percorso non esclude assolutamente l'altro. Questo diploma viene visto con molta curiosità e molto interesse durante i colloqui di lavoro e mi ha permesso di arrivare in azienda già con delle conoscenze di tecniche, di prodotto e di processi produttivi che mi stanno tornando molto molto utili e il cui valore è riconosciuto anche da parte dell'azienda. Cosa voglio fare da grande? Non lo so, so solo che la cosa migliore è quella che ho fatto fino adesso, cioè fare quello che voglio fare e cogliere tutte le opportunità che mi si presentano.